TRIANGOLAZIONE ESCISSIONE Hmm... cos'che' l'è sta roba? Quando un manipolatore vi vuole mancare di rispetto, usa la triangolazione. Di cosa si tratta? In pratica, per il fatto che lui reputa, anzi, non vi reputa degni di avere un'interazione da uomo a uomo, da persona a persona con lui, usa un terzo incomodo per potervi far arrivare certi messaggi. Un esempio sarebbe Giorgio che va da Antonio per lamentarsi di Stefano. Come potrebbe svolgersi questa conversazione? Ah, Antonio, vada, vada, vada... Mi con Stefano non se la faccio più. Quello lì deve capire che mi deve stare lontano, deve capire che se lo ciappo, gli faccio un c***o. Vi lascio indovinare il resto. Ecco, vedete? In questa conversazione c'è Giorgio che sta in realtà parlando con Stefano, tramite Antonio. Antonio, in questo caso, sta facendo da mediatore fra i due. Quindi, vedete, ci sono tre persone coinvolte e questo forma un triangolo. TRIANGOLAZIONE In questa maniera, quindi, il manipolatore, che cosa sta anche dicendo a Stefano? Che, appunto, non sei degno di parlare con me, non ti voglio vedere, ma, soprattutto, una cosa rivelatrice del manipolatore che lui non sa, è che è un vigliacco. Solo un vigliacco usa la triangolazione. Va beh che, in certi casi, per un queto vivere, magari siete in una condizione in cui vivete con altre persone, quindi non volete far scattare un putiferio per cose varie, quindi cercate magari di far arrivare un certo messaggio a qualcuno per evitare, appunto, un litigio. Ma, qua, siamo in un altro discorso. Non siamo in un discorso di qualcuno che vi sminuisce come persona, che non vi considera neanche come qualcuno con il quale interagire. Che è il caso in cui ci troviamo adesso, con il narcisista che usa, appunto, la triangolazione per sminuirvi, per farvi capire che non valete nulla. Tra l'altro, un altro modo per insultarvi, sapete qual è? Vi manda un bambino per parlare con voi. Un bambino. Con questo che cosa sta dicendo? Che non siete al suo livello in quanto adulto. Siete un bambino che deve parlare con altri bambini. Cioè, vedete quindi la sottilezza degli insulti e della manipolazione che viene fatta con la triangolazione. Come si fa ad affrontare questo tipo di manipolazione? Molto semplice. Quando arriva terzo per mandare un messaggio da tizio, gli dite, io non voglio sentire niente. Che me lo venga a dire faccia a faccia. Altrimenti, arrivederci. Poi, nei peggiori dei casi, ma qua entriamo proprio in un caso molto estremo, recidete i contatti con le persone che il narcisista usa per fare la triangolazione. Perché dovete rendervi conto di una cosa. Lui continuerà a mandarli, a mandarli e a mandarli fino a quando non arriverà al suo scopo. Quindi preparatevi a ricevere un sacco di volte un Antonio che verrà dalla parte di Giorgio per dirvi che non vi sopporta eccetera eccetera. L'esempio che ho fatto prima era un esempio indiretto. Però ci sono anche gli esempi diretti in cui proprio Giorgio va a dire ad Antonio devi dire a Stefano che non lo voglio vedere, non lo sopporto più. Questa quindi è la triangolazione. La scissione invece è quando il manipolatore vuole creare zizzagne fra voi e le persone che vi circondano. Quindi va a creare delle false storie su di voi. Magari dicendo che avete detto qualcosa su tizio, che poi ha detto a Caio, che c'è una confusione davvero incredibile. E voi come ve ne accorcete? Una persona con la quale magari avete sempre avuto un'interazione tranquilla, pagata, d'un tratto è fredda nei vostri confronti. Non vi saluta più con un saluto caloroso. Vi saluta tipo Ciao. Sì, 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 sì. Questo è un indice che qualcosa gli è stato detto su di voi da parte di qualcuno. Il manipolatore. Quindi questa è la scissione. Dividere per regnare meglio. E' esattamente quello che fa il manipolatore quando fa la scissione. Vi divide dai vostri amici in modo da potervi isolare e creare un senso di abbandono, di rigetto. Perché voi quando vedete tutti che si allontanano da voi, come vi sentite? Specialmente se siete qualcuno che ama stare in mezzo alle persone, ama interagire, è molto radiosa, è molto vivace. Quando le persone si allontanano da voi per una cosa che non sapete, per delle colpe che non avete, è una cosa pesante, vi devasta. E il manipolatore sa queste cose. Perché lui, mentre succedono tutte queste cose che ha messo in atto lui, vi osserva da lontano con un binocolo. Binocolo si fa per dire, però avete capito cosa intendo. Queste erano quindi le differenze fra triangolazione e scissione. A proposito, se vi piace molto il contenuto di questo canale, cliccate sul pulsante per iscrivervi e attivate anche la notificazione, in modo di essere avvisati non appena ci sarà un video nuovo a disposizione. Vi ringrazio di nuovo per la vostra attenzione. Ci vediamo alla prossima!